amici di seo dei fatti di seo dei fatti che si fanno nel gruppo i fatti nostri fatti vostri fatti loro io non so mai quanto ci si può incartare quando si introduce una diretta bella come questa una diretta che soprattutto funziona non certo per merito della mia simpatia travolgente ma per la presenza degli ospiti in questo caso Enzo Mastronardo applauso grazie buonasera tu parli di fatti con la foto mia accanto stai facendo un'allusione no no sono i fatti qui si fanno i fatti fanno i fatti fanno i fatti e a proposito dei fatti oggi vorrei parlare di un tema l'ho già annunciato nel titolo di questa di questa live per cui già si sa che parleremo di freelance ma prima di tutto Enzo come stai ti ringrazio per la domanda sto abbastanza bene grazie non c'è male i piccoli acciacchi che i quarantenni possono diciamo possono riscontrare diciamo al compimento di questa fascia no a parte tutto abbastanza bene grazie ma devi essere devi essere un po stanco perché per forza cioè è un mondo stanco questo quindi ma io sono pieno entusiasmo di energie tu come stai sono un po stanco in verità bene in generale però sai questo il mese di febbraio è proprio il mese in cui si macina di più sono andato a fare poi magari diteci in un commento qua sotto se anche per voi è così sono andato a vedere la quantità di lavoro sui prospetti anno per anno andando in passato sul mio gestionale e viene fuori che febbraio è sempre il mese in cui si pigliano più cose ciao roberto eccolo là tu hai mai fatto questo esercizio Enzo cioè di andare a ritroso nella nella tua amministrazione degli anni passati per vedere graficamente quali sono i mesi in cui hai lavorato di più no e se ci sono ricorrenze lavorato di più beh io sono un paio d'anni che il mio concetto di lavorare si è molto rivoluzionato a livello di impegno e ti posso dire che febbraio è uno dei mesi tu lo saprai un po più morti dal punto di vista dei guadagni che sono chi è facebook user e non lo so per questo io vorrei ricordare di solito sono io quando fa le dirette fabio antico ricordiamo agli utenti senza volto di andare su streamyard punto com slash facebook credo e cedere in usufrutto il primo genito maschio perché mostri mostri la faccia quindi accettate era germano eccolo qua grande germe ciao germano sì i primi mesi dell'anno sono prolifici come avvio di progetti diciamo come dicevi il contrario invece il contrario nel senso siccome ho rivoluzionato un po il concetto del del mio lavoro dell'impegno durante l'anno io vedo aprile e maggio per me sono i mesi dove prendo di più e gennaio sicuramente febbraio invece è uno di quelli dove io mi dedico completamente ad altro cerco un attimo di staccare perché altrimenti subisco un po il calo del delle come dire delle vendite dei progetti e quindi mi tengo impegnato con altro se no poi mi succede sta roba qua ci sono momenti che abbiamo bisogno di staccare tantissimi momenti io volevo volevo ringraziarti innanzitutto per una risorsa molto bella che ha avuto anche molto successo pubblicata da te credo un annetto fa che è il famoso il fantomatico il famigerato ormai video su ap indexing di google per wordpress allora enzo ha fatto un video andatelo a cercare su youtube che io sto consigliando a tutti i miei clienti tutti perché è una guida passo passo anche molto divertente perché poi bisogna dire enzo c'è una connessione lentissima lentissima è un miracolo che adesso è lui che si incarta con la connessione ma non sono io è lui che poi do la colpa al cloud comunque c'è enzo che spiega passo passo come andare a organizzare sia su google sia sul sito in wordpress in questo caso utilizzi rank mat un'estensione di rank mat che può convivere tranquillamente anche con chi usa i host e allora diciamolo è molto bella questa cosa perché ma lo sai che enzo ancora tantissimi non hanno idea di cosa sia ap indexing beh io stesso l'ho scoperto grazie a una dritta di emanuele dolomei del maestro perché avevo difficoltà a mettere in indice i progetti nuovi vedevo che siccome non c'era vitalità erano appena avviati più di qualcuno mi aveva detto sta roba ma io siccome ero impegnato a progettare e mi perdevo la parte tecnica allora lui mi ha detto usa rank mat però non ti dico come si fa lo fai tu giustamente perché il maestro mena hai dovuto capire tu come funzionava beh sì c'è la procedura in inglese spiegata illustrata eccetera anche antonio mattiacci ne ha fatta una copia in italiano però io me l'ero fatta in 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 modo pratico e quindi l'ho rifatta la guida passo passo su un progetto vero senza mascherare nulla se no così poi la gente non capisce nulla hai capito cioè attento il maestro ti ha fatto un culo così ti ha detto no vai tu e qua invece arrivano e chiedono link al video ma trovatelo da solo il video link al video bisogna scrivere su google api indexing wordpress no troppo difficile troppo troppo difficile non ce lo posso fare non ce lo posso infatti arriva Roberto santo ragazzi allora no siamo siamo messi troppo male cioè non c'è manca proprio io lo vedo tante volte sia perché il gruppo dei fatti di seo chiaramente essendo un gruppo generalista molto inclusivo ecumenico che vuole andare bene per tutti molto spesso è frequentato anche perché poi su facebook diciamo la verità frequentato da persone che vogliono una soluzione subito cioè non che non vanno lì a cercare no ma è nell'ordine delle cose enzo sì a queste persone noi ricordiamo enzo immagino tu sia d'accordo con me quale debba essere la prima il primo requisito di uno che voglia fare seo imparare fare una maledettissima ricerca aiutiamo i giovani seo ah peraltro se andate io non so se sulla documentazione di google sia ancora così ma loro ti dicono comunque guarda che api indexing non lo puoi usare su tutti i contenuti ma soltanto su certi tipi di contenuti allora lo ribadiamo una volta per tutti non è vero niente non è vero esatto sì una piccola precisazione la vorrei fare ciao antonio ciao antonio una piccola precisazione la voglio fare francesco perché comunque sia adesso ho un pochino di progettini dove posso dare dei dati probatori quello che posso dire è che in quel momento funzionava bestia tanta gente mi ha ringraziato che ha sbloccato eh l'indicizzazione da non confondere col posizionamento ti sono arrivati prosciutti a casa no quelli no infatti guarda mo gli scrivo ma i prosciutti almeno una cosa però bravo bravo ma anche le melanzane sott'olio andano bene no perché il prosciutto costa effettivamente poi si rovina nel viaggio però ecco devo dire che ad oggi non non ti non posso dire che l'efficacia dell'api indexing per progetti nuovi che devono essere messi in indice sia la stessa di qualche mese fa mi sembra che che ci siano dei segnali che mi fanno capire che non è più così immediata la cosa e quindi sì usatelo testatelo se proprio non vanno in indice gli url le url ma secondo me l'efficacia è un po da riesame diminuita ma lo sai che io non ho avuto questo segnale ultimamente anche io sono quasi esclusivamente su progetti nuovi quindi tu sicuramente magari metti le mani sul contenitore che hanno di persone la loro vitalità che si presta di più a sta roba quindi ecco do il mio contributo da questo punto di vista ma allora ci sta pure che il progetto nuovo google sia più sospettoso ma rispetto a prima era un po più ah questo è interessante questo ci sta dando un dato ci sta dando urliamo urliamo il nostro disappunto potrebbe essere il nome di un evento sulla seotecnica urli mi piace molto allora siamo in contemporanea con una live che faceva fabio antichi io non lo sapevo è e mi dispiace infatti e pure a me dispiace ma del resto e i ragazzi hanno detto quest'anno facciamo non so se c'è antonio collegato quest'anno facciamo meno live perché l'anno scorso ne abbiamo fatte troppe ogni sera pure loro è vero è vero benedica benedica allora sostanzialmente oggi parliamo di due cose uno è strategia di visibilità per freelance due sono le puntarelle la cosa più interessante di cui parlare sicuramente sono le puntarelle anche perché stagione perché poi non è che possiamo farlo tra più tardi o avanti adesso ci sono eh allora le puntarelle sono e cicoria è la è il gambo la parte sotto della cicoria quella dura fatta agli sti agli stelli sottili condita con un perché poi il segreto appunto in questo in questa brodaglia di condimento molto unta fatta di aceto e olio e acciuga sale non so quale robe ci sono claudia me la fa ora ti dico la mia super ricetta e adesso infatti voi siete qui non tanto per sapere come si fa il freelance ma per sapere cosa mangiano veramente i romani a natale come insalata di rinforzo perché al sud al sud l'insalata di rinforzo è proprio un'altra cosa cioè ci sono proprio altre cose mentre invece al nord si mangiano le puntarelle che sono perfette come insalata di rinforzo e da oggi diventano anche la nuova tradizione irpina non so se roberto è d'accordo però comunque dai show cooking in diretta come la fai tu le puntarelle intanto bisogna dire che il discorso della della del freelance è molto legato a come mangi il freelance ha l'obbligo di fare il pasto che il dipendente d'azienda non può fare sennò qual è il vantaggio bravissimo quindi sì non ti devi addormentare alla postazione che ti fai però devi mangiare come come dio comanda insomma no ogni tanto tu pubblichi anche dei dei piatti le fotografie di piatti che uno dice beh però ciao insomma effettivamente l'entusiasmo la la voglia il gusto che poi ti spinge anche lo stesso sulla cioè se no che di che stiamo parlando io non me le so fatte le analisi ancora faccio talmente analisi di mercato e che no poi allora a un certo punto no tipo passa un anno non mi sono fatto le analisi quest'anno e vabbè non fa niente le faccio l'anno proprio poi cominciano poi senti il doloretto qua oddio dottore che è ma qui non c'è niente lo so però sento come una puntarella che vuole uscire comunque si fanno si devono pulire bene molto bene lasciare a bagno più le lasci a bagno più si arricciano che si arricciano anzi le lasci un po anche asciugare belle umide un po arricciate quando è quando sei pronto le condisci con olio d'oliva però no quello del supermercato che è olio con miscele europea olio d'oliva l'olio d'oliva poi metterei anche olive taggiasche ah ma non sono nella ricetta originale no ma la ricetta l'originale va stravolto come pure le API indexing andavano bene solo per blog posting noi le usiamo per tutto capito bisogna allora ma lo sai che ho scoperto una cosa se vuoi mangiare le olive nere devi prendere le taggiasche perché se prendi le olive nere in barattolo quelle normali in realtà quelle sono olive verdi colorate lo sapevi eh non lo sapevo ma mamma mia era meglio che non me lo dice le nere sono le taggiasche se prendi le olive nere quante ne stanno a uscire con le in salamoia tipo quelle non sono olive nere no infatti hanno un sapore completamente diverso invece queste taggiasche e poi bisogna aggiungere a mio parere le alici le alici una spruzzatina di pepe e poi si mette le alici le acciughe sì le alici no le alici io direi l'alici sott'olio le alici sott'olio le alici le acciughe scusa le acciughe sì io alla romana le intendo in questo modo sì sì hai ragione le acciughe sono le mie alici sott'olio praticamente ok 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 chiaro va bene e poi te le gusti così ah che bella cosa che bella cosa intanto Roberto a me manco piace la l'insalata verdura a me non piacciono ma queste sì eh no ma infatti ma queste perché sono ti vanno dirette nel sangue chiederò una dieta chat gpt perché bard è ancora troppo giovane io adesso Enzo dovrei chiederti qualcosa su queste tecnologie perché si parla anche di attualità no in questi podcast e quindi noi dovremmo adesso dire qualcosa su quello che sta succedendo ecco c'è un post è arrivato oggi vediamo se lo riesco a trovare aspetta eh dunque un post che cercava di fare una sintesi di Fabio Carletti che saluto e lui scrive riassunto la gente ha iniziato a usare chat gpt come motore di ricerca punto due Microsoft cavalca questa stortura e tenta di specularci sopra per riguadagnare quote di mercato tre Google spiega come il natural language processing è solo una delle tante applicazioni basate sulla IA a cui sta lavorando da anni quattro analisti addetti ai lavori vanno nel pallone il punto quattro mi sembra quello più sensato di tutti tu che sei fatto su quello che sta succedendo diciamo che io stesso ho subito un po tutte le fasi come dire ho sperimentato l'ho utilizzato ma diciamo che per quello che posso dire io io so che praticamente gli utenti non credo che lo stiano usando gli utenti non lo stanno usando secondo me lo stiamo usando noi e presumiamo che lo usino gli utenti io l'ho fatto vedere a degli amici a dei clienti si sono innamorati perché invece di utilizzarlo come lo utilizziamo noi scrivi me sto contenuto perché lo devo pubblicare devo rancare ci devo fare affiliazione devo vendere loro hanno chiesto come posso gestire questo aspetto della mia organizzazione e quello gli ha risposto bene ed è una tecnologia uscita fuori di straforo rispetto a quello che sta facendo google si considerazioni secondo me le possiamo fare per riempirci un po la bocca perdonatemi ma io stesso quando tocco l'argomento pubblicamente sono sono non bersagliato però è chiaro vado incontro a delle critiche da parte di chi la pensa in modi differenti perché perché non la verità è che non sappiamo che cosa ci aspetta lo stiamo subendo lo stiamo cavalcando secondo me la differenza la fa a chi va in mano lo strumento come ho già detto altre volte io addentrato in un certo argomento con certe premesse riesco a tirare fuori un contenuto che secondo me un contenuto una soluzione più che un contenuto che poi posso rigirarmi in tanti modi differenti e penso che di aspettarmi da google qualcosa di oltre non so io parlo a livello di utente che lo usa perché poi la dobbiamo vedere in due modi la dobbiamo vedere il risvolto che avrà per noi addetti ai lavori che ci guadagniamo e ci stiamo sul motore di ricerca e i risvolti che avranno per l'utente google sicuramente come ha chiarito giorgio tave nell'ultimo video sicuramente esce esce prematuramente perché non era il momento sono costretti sono stati costretti per salvare le persone dal dalla ricerca ma noi quando formuliamo sta ipotesi è inutile lo facciamo col vizio di forma di noi addetti ai lavori quindi che ne vogliamo sapere finché non esce fuori la roba ma che vogliamo sapere ma infatti allora intanto penso che sia eccessivo dire che la gente adesso usa chat dpt come un motore di ricerca è molto bello l'utilizzo di cui parlavi anche tu per gli imprenditori è un ottimo modo anche per fare brainstorming perché ti suggerisce cose non me l'aspettavo di che lo usasse in quel modo che lo interrogasse in quel modo ci sono rimasto sì 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 assolutamente detto questo però noi siamo i primi a brancolare nel buio ma google brancola nel buio cioè ha fatto una presentazione ieri ne stanno parlando tutti il titolo di google sembra che è sceso dopo sta presentazione perché lo stesso fabio antichi stamattina è andato live con le news ha detto ma veramente google doveva esserci non è cambiato niente non hanno fatto uscire niente beh sai che c'è francesco io penso che noi spesso con la mestiere che facciamo ci scordiamo che noi facciamo tante analisi e vestiamo spesso i panni di altri business e di altri settori per i nostri clienti ci scordiamo di farlo per noi stessi quando analizziamo una situazione nel senso noi siamo abbezzi a vedere le cose con un occhio di visione d'insieme perché questa volta non lo facciamo e puntualmente spesso non lo facciamo quando si tratta di analizzare una situazione come questa il risvolto ci potrebbe essere dall'implementazione dell'intelligenza artificiale sulle serp di google non riguarda solo noi che ci lavoriamo riguarda anche per esempio la citazione delle fonti e quindi magari grossi colossi dell'informazione dell'editoria che temono di non essere citati temono in come google gestirà questo aspetto e dice il titolo va giù noi la pensiamo soltanto uscirò in serp si vedrà il mio snippet ma i risvolti sono centinaia sotto altri punti di vista che non c'entrano niente con la con noi della seo capito sì certo dobbiamo andare avanti e vedere quello che succede giorno dopo giorno confidando nel fatto che i primi a essere confusi sono proprio lo cioè ma tu ti immagini un colosso come google che è costretto a lanciare e io temo per i bug pure che ci saranno bing ha aperto la lista d'attesa sull'app cioè tu puoi scaricare l'app per bing che con che integra chat gpt e ho fatto una figuraccia l'altra sera perché avevo letto un post di roberto serra adesso c'è chat è pronto allora io mentre scaricavo l'app di bing per vedere preso dall'entusiasmo ho scritto ci sta ma quante volte l'abbiamo fatto dai ci sta ho scritto già integrato c'è la funzione eccetera eccetera arrivato subito fiorelli sotto maestro fiorelli è arrivato ha scritto no ma veramente c'era lista d'attesa sono andato a vedere eh Gianluca c'hai ragione qualche ricerchetta diciamo preimpostata se mi sembra te la faccia fare qualcosa fa fare comunque però di fatto per avere l'integrazione ma lì fondamentalmente se fosse se se bing avesse avuto già la forza di uscire per tutti con un'integrazione sulla search di chat gpt la sarebbe stato un veramente un cambio di paradigma cioè lì la partita l'avrebbe vinta bing cioè sarebbe stato immediatamente molto avanti chiaramente al netto di tutti i bug che sicuramente ci saranno da una parte e dall'altra intanto roberto scrive proprio poco fa ho fatto una live sui miei tre social contemporaneamente proprio su come usare una coscienza c'ha gpt per contenuti in google file la coscienza ma com'è la coscienza ma se ci manca a noi umani la coscienza giusto l'intelligenza artificiale ce la puoi almeno quella allora la presentazione di ieri mi ha ricordato il lancio di windows 95 con il test del pc è brutta è brutta non so come va a finire sta cosa però in ogni caso a me piacerebbe che di noi se o comunque un giorno si dicesse sai salutavano sempre erano trovato sì erano alcuni di loro erano eclettici musicisti alla fine chi ha rubato lo smartphone della presentazione non lo so non lo so sicuro aiuto con coscienza non la coscienza non la coscienza ah ok ok e quindi vedete perché poi ce l'hanno chiesto anche molto spesso nel gruppo enzo ci hanno detto ma la seo adesso che fine farà morirà non morirà quali sono le tue impressioni su sulla fine che farà la seo a fronte di tutte queste a fatto che se ne possono avere d'impressione no a fronte di quello che sta succedendo io poi sono uno sempre molto che pensa da quando ero ragazzino perciò insomma è certo che me lo sono posto il problema e che ci ho pensato intanto per cominciare ti dico che ho visto nella mia dimensione di colleghi professionisti tanta gente uscire fuori dalla seo non andarsene comunque ho visto giustamente sia perché a un certo punto arrivi sia perché a un certo punto senti il bisogno anche di cambiare è capitato più che più di qualcuno che abbia avviato contemporaneamente al restare un professionista seo ha avviato comunque delle attività fuori offline che con la seo non c'entra nulla un po per diversificare ma quello perché penso succeda io non credo che la seo morirà credo che si evolverà credo che cambierà il modo in cui gli utenti approcceranno alla ricerca e se le fonti saremo noi è chiaro che avremo uno spazio che poi questo spazio va a ridursi credo che resterà sempre però per chi i problemi alle persone li risolve io io ho vinto così nella mia piccola seo poco tecnica e molto strategica cioè oggi siamo qui a parlare tu mi conosci probabilmente perché io ho approcciato con una modalità di soluzione e al di là del posizionamento su google capito certo si guarda sempre in modo più ampio no al senza restare troppo sulla seo quasi per esempio enzo scrive ma enzo che sposta la webcam allora devi sapere me l'ha detto prima della live roberto me l'ha detto enzo sto fatto praticamente c'è un seo che per diversificare c'ha il secondo lavoro adesso sta a casa di enzo gli sposta la webcam me lo segue quindi è una cosa che dipende fermo un po e lui l'ha assunto part time postati la webcam durante formando così poi lavora insieme a me insomma qualcosa dobbiamo fare noi siamo non possiamo fossilizzarci troppo su sta cosa non credo proprio che morirà si evolverà e spero di avere la voglia e l'entusiasmo e la pazienza di continuare a stargli appresso però credo che ci siano un sacco ancora tante opportunità devo dire nel corso degli anni io ho visto tanti seo smettere di fare seo per cambiare mestiere completamente oppure spostarsi su altre cose quindi questa cosa che tu dici enzo io la vedo succedere da anni sì forse se qualcuno si ricorda di me è perché in tutti questi anni sono forse uno dei dei duri e puri nel senso che sono rimasto fedele alla linea da enzo c'è anche in vano fossati non so no no è un'imitazione che ho fatto sul gruppo telegram di emanuele dolomai perché io faccio anche imitazioni ho detto che noi siamo eclettici ma sì qualcosa dobbiamo fare allora io personalmente penso che un motore di ricerca deve dare più risultati perché tante ricerche sono speculative se un tool come chat gpt offre un risultato solo la gente continuerà a usare i motori di ricerca però in effetti noi non dobbiamo guardare a chat gpt dobbiamo guardare a chat gpt o similari dentro il motore di ricerca sì in quel caso ecco noi avremo una ricerca ancora una volta integrata come è sempre successo perché tutte le tecnologie di google sono poi confluite in qualche modo dentro il principio dello universal search cioè il la serp che integra cose adesso la serp integrerà anche un generatore di risposte molto più puntuale il rettato fa già però chiara me ora mi sto inventando cose che non ho ancora visto quindi facciamo delle congetture facciamo congetture ci sarà appunto un assistente che funziona grosso modo come chat gpt che però ti trova anche le fonti delle risposte che fa e va bene allora vorrei dire che noi seo ci occuperemo di come finire dentro queste fonti il test che ho fatto sul codice status 610 test che emanuele te lo hai seguito insieme a me da novembre che avevo fatto non so se sei sentito che non ha parlato sì non mi sembra sì fondamentalmente io sono un grande fan di lillo e greg quei due comici che facevano sì sì lillo e greg avevano un programma che si chiamava lillo greg 610 610 e allora il test era per vedere se riuscivo a prendermi uno snippet in evidenza di google con un parlando di un argomento che non esiste e quindi mi sono inventato lo status code del browser 610 inventandomi una supercazzola sostanzialmente quindi ho fatto un articolo sul mio blog raccontando di cosa fosse e di quanto poteva incidere sul posizionamento dei motori di ricerca ovviamente sono arrivati subito quelli quando ho spiegato la cosa ah ma tu sporchi il motore di ricerca in questo modo è figlio mio ma tu lo sporchi il motore di ricerca tu lo sporchi è chiaro perché per per far funzionare male il motore di ricerca servono i test di francesco margherita ma lo fanno tutti e a parte questo va beh diciamo che cosa ho dimostrato una volta di più che è possibile non devi essere wikipedia o mai personal trainer o altri siti molto importanti per uscire nelle negli snippet in evidenza di google un sito qualunque può uscire addirittura con un argomento che non esiste quindi si tratta di genere che poi è anche i miei test sono sempre anche esperimenti sociali perché poi per ottenere la validazione per ottenere lo snippet sono andato a sviluppare segnali su siti esterni quindi sono andato su altri blog a tema a pubblicare commenti in cui lanciavo menzioni innescavo discussioni eccetera e ha funzionato quindi non è semplicemente l'argomento sul sito ma è anche tutto il lavoro fatto sulle piazze digitali a tema tutte cose di cui parlo dal 2012 sostanzialmente tutte cose che io ti confermo che a me sulla local mi fanno la differenza nonostante molti dicono che siano deprecate io passo più tempo a fare questa roba che a sviluppare il sito a fare la home page e non è link building precisiamolo che non è link building no perché non ci sono link ma nemmeno sono soltanto menzioni e a proposito di questo un grande saluto poi riprendo la live con i grandi ciao demetrio a proposito di questo un post di amine il fadil qualche giorno fa su cui ci ho anche fatto un video che parlava diceva amin da studi che ha fatto emerge che i backlink spingono di meno rispetto alle menzioni su siti importanti senza link perché la maggior parte del ragionamento che fa amine qual è la maggior parte dei colleghi che fanno seo comprano link su testate importanti ma una cosa che non fanno è comprare la semplice menzione quindi un articolo dedicato senza link questa roba google potrebbe captarla come un segnale di rilevanza più vero è paradossale enzo ma potrebbe essere assimilato come un segnale di rilevanza più vero in realtà c'è molto della filosofia tra le persone in questo nel senso io parlo bene di te non è che ti accompagno a casa del tizio di che ti sto raccomandando sì cioè per assurdo il backlink potrebbe ah ma c'è anche il backlink e allora non mi fido diciamo che una menzione l'impressione che io ho è sempre questa qui che se la cosa è semplice perché dover smazzarsi a fare una cosa più complessa nel senso paghi per mettere dei backlink è più semplice no a livello di sforzo ignorante tra virgolette su questa pratica è diverso invece andare a cercare sinergie collaborazioni offrire un contenuto per essere citati avere lo sforzo di farlo e piazzare nell'ecosistema delle menzioni credibili è più facile pagare e schiaffarcele sopra e quindi è ovvio che l'attività che si predilige è quella più semplice tanto pago non c'è limite al budget io pago quindi fallo sì sì pagalo in energie e fattelo da solo no aspetta un attimo e ci sono prezzi che sono più comodi di altri da pagare una cosa che io dico da sempre è che ogni piazza digitale a tema a patto di riuscire anche solo con un commento con un thread su un forum a ad aumentare effettivamente il valore di una pagina e magari di innescare una conversazione una risposta quando io vado a commentare sui blog altrui le persone poi mi rispondono è lì allora google capta che c'è un segnale non ci sono link quindi queste sono attività in tutto sociali che ecco se ne è accorto a min e ha fatto quel post su linkedin io devo dire che teorizzate nel 2012 sperimentate fin da allora ne parlo nel manuale di seo gardening ma in realtà a me sembra che più andiamo avanti e più funziona questa roba sì sì più ce n'è quindi bisognerebbe abbracciare un attimo lo dico dal mio punto di vista che chiaramente quello sociologico però le relazioni sociali a me tu lo sai mi sono sempre piaciuti gli esperimenti sociali come quando per esempio qua enzo fa notare quella volta dove sta eccolo qua un po come quel post di francesco che chiedeva un webmaster per il suo sito una volta io andai sul gruppo e dissi mi servirebbe un preventivo per sviluppare un sito web il gruppo ma non hai idea di cioè io lì mi accorsi che non mi conosce nessuno in quell'occasione capì perché mi arrivarono una fraccata di messaggi privati oppure commenti che dicevano io io ti faccio i preventivi dimmi che cosa ti serve dimmi che nessuno sai quando c'hai un gruppo con 34 mila persone è normale mi conoscerà certo ci saranno anche assassini dentro sì c'è un po di tutto quindi 34 mila persone capito sì sì e quindi un po ci ci andiamo a ridimensionare perché è nell'ordine delle cose che siamo soltanto dei puntini delle punte di spillo nel manto della notte mi fa morire roberto io ho dovuto imparare a fare l'imitazione di roberto santori e quando ci vediamo di persona gliela faccio esclusivamente a lui poi se lui mi la approva allora posso ma sei un minuto allora cosa è tiktok per i freelance finora come vi siete trovati ma che roba è di che tu ne sai enzo lui però lui testa tutto prova tutto è un grande divulgatore tester è un esempio da questo punto di vista roberto io ho non l'ho provato l'ho acceso ho visto le dirette e mi veniva voglia di tirare il cellulare fuori dalla finestra gente che faceva così no allora io ci sono stato per un po su su tiktok ho smesso di fare video a un certo punto perché non lo so non non mi risuona tanto però non lo so magari riprendo penso che manuele tolomei c'è c'è potenziale bisogna il discorso è che noi quando comunichiamo ma guarda non voglio caricarmi di argomenti ma vale un po per quello che stavi dicendo prima anche sul fatto bisogna andare a fare questa relazione francese se noi gestiamo progetti per clienti queste cose le faremo sempre meno perché non ne abbiamo l'entusiasmo e la volontà quando è il titolare stesso o il responsabile del progetto stesso a seguirlo in prima persona vedi che queste profondità le fa e tu conosci sicuramente dei colleghi che hanno progetti sul loro business come potrebbe essere ma non mi viene in mente qual è quello che c'ha le chiavi il fabbro mauro mazzaglia mauro mazzaglia è l'esempio di quello che dovrebbe ce ne sono tantissimo mi è venuto in mente lui lui è il comunicatore di se stesso salutiamo lui è il comunicatore di se stesso il seo di se stesso per il suo business perché è il titolare o la risorsa interna ha la volontà di fare di avere quella profondità di seguire il progetto e di fare tutte le operazioni necessarie che spesso il filenze anche pagato non ha ok allora io le aziende propongo io le aziende propongo questo tipo di approccio poi viene vengono sviluppati insomma in questo modo certamente e quelle sono pochi sono pochi ecco per la rara però ecco dicevo per il video pure lì quando io le ho fatti i video ora mi sono un po fermato sono un paio d'anni che non divulgo più come facevo prima perché dobbiamo lasciare che sia la versione migliore di noi stessi a comunicare se lo facciamo in modo costruito per fare il test non viene bene io so benissimo che nel momento in cui decido di aprire un canale youtube e dedicarmi solo a quello sicuramente va bene però adesso non lo faccio perché il video lpi indexing è stata una cosa estemporanea ne potrò fa altri due tre ma è questo che ci perdiamo del video dell'api indexing ci insegna che quando fai una cosa che serve che non c'è funziona sempre alla fine il marketing dovrebbe servire a questo però ero io lì capito ero io ero io proprio bene nel male allora io ci oscuro con questo commento che è arrivato perché lo voglio leggere allora scrive ciao a tutti da quello che posso vedere dalla mia esperienza quello che fa perdere tempo non viene fatto apprende e prendere menzioni sicuramente un'attività che impone impegni è quello che stavi dicendo tu Enzo anche per il guest posting viene fatto lo stesso discorso si paga e si pubblica inviando a dieci editori diversi articoli simili con la stessa anchor text con frase che la contiene molto simile soprattutto nella stessa posizione ovviamente nel primo paragrafo e quando si prova a chiedere qualcosa allora è chiaro il senso di questo post ed è il motivo per cui il web è pieno di monnezza ed è il motivo per cui i link non spingono più è proprio per questo trovare lo spunto ma scusate non so quanti di voi hanno mai studiato con manuele tolomei prima Enzo mi raccontava una cosa no che maestro tolomei è uno molto duro è uno che dice mettiti la ma se noi siamo i primi che vogliamo le risorse belle e pronte come possiamo aspettarci che le aziende che seguiamo che i nostri clienti eseguano una strategia di comment marketing con la diffusione dimensioni oppure si mettano a fare cose ragazzi dobbiamo essere noi i primi a farci un mazzo così serve più impegno ci si arriva dico che ci si arriva io non è per fare una sviolinata perché tu mi hai invitato io dal 2014 che frequento questo gruppo in questo gruppo io ci sono cresciuto non ti non ti sto regalando nessun complimento è tutto meritato però è vero c'è stato un momento una fase della mia vita professionale dove io ho chiesto tanto qui dentro e c'è stato un momento dove io ho provato a ridare indietro come pure momenti di di grande assenza però quello che ti posso dire è che io qui dentro ho trovato risposte e anche non risposte che mi hanno fatto capire che la risposta la potevo dare solo io si capita spesso perché siamo su facebook e quindi anche uno preparato che ti dà una risposta non ti può fare uno spiegone su facebook perché magari c'ha i cazzi suoi e quindi ti dirà una roba che ti apre un po la 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 mente però non ti ha detto come si fa e quindi è un po come il maestro tolomei che ti dice allora questa cosa così però adesso fatela tu non rompere qui per esempio qui è un contenitore che ha questa questo 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 privilegio puoi capire effettivamente che nessuno ti può dare perché io anche cercavo scorciatoie cercavo vie facili e tanti oggi ancora sono convinti che ci sono dei segreti che noi ci teniamo ci teniamo bocca cucita ce le diciamo tra di noi nelle scene incappucciati no ce l'ho anch'io esatto esatto coincidenze che abbiamo il cappello io non credo noi ci incappucciamo quando nel footer del quando nel pre footer 26 pixel sopra la linea del footer scrivi giacomo giacomo in inglese cioè noi queste cose io certe cose le so perché certe cose io le ho viste succede certe cose anche tu hai delle doti però è vero nel senso io qui tante volte cercavo conferme e capivo che non avrei ricevuto conferme perché nessuno meglio di me poteva sapere come doveva affrontare quella problematica che c'avevo solo io perché i progetti la verità è che sono specifici singoli come le persone se tu per un bronchite dai un farmaco a quello magari quello non ti guarisce io si i siti e la seo sono la stessa cosa purtroppo e per fortuna è una grande metafora della vita se no a chi vendiamo le consulenze i segreti sì è così quello che va bene per me non va bene per te e viceversa è sempre e qui ancora continuiamo a incastrare la seo nelle definizioni valide a prescindere lì mi incazzo e smetto anche di rispondere capito che ti voglio dire sono euristiche sono meccanismi di semplificazione che ci aiutano a sopravvivere per contrastano la pigrizia mentale qualcuno bravo direbbe l'avarizia cognitiva quindi noi non possiamo avere una risposta perché demetrio dice sempre dipende 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 cioè demetrio ci ha costruito demetrio mi aspetto che uno di questi giorni arriva con le magliette dipende dipende non devi scrivere nient'altro solo dipende hai già capito di che stiamo parlando io non me rassegnavo io sono stato dall'altra parte per tanti anni e lo sono ancora perché io comunque sono ancora uno studioso un curiosone e c'ho tante lacune tecniche lo dico non c'è problema ma io sono stato dall'altra parte quando ero bramoso di risposte ed ero sicuro che c'era la scorciatoia e non mi capacitavo da sta cosa e ci sono purtroppo anche persone che scrivono qui dentro che io senza presunzione perché non sono nessuno non sono arrivato senza presunzione dico che se non cambiano atteggiamento non si salveranno ma non lo cambiano non lo cambiano alcuni alcuni sono sono ma noi le persone sono quello che sono Enzo uno cerca di dargli una mano ma io ti posso allora io ti posso dire che dovresti guardare le cose in un altro modo ma se nasci tondo non muori quadro la regola di avvocadro com'era allora che cosa scriveva prima roberto i tiktok di germano sono psichedelici quelli di emanuele un po di musica un po di marketing io e fabio riversiamo alla fine contenuti che pubblichiamo anche altrove allora io c'ho quasi paura a chiederlo avete germano voglio andare a vedere perché non ho mai visto nemmeno io li ho visti però vedete che germano è già un po' psichedelico di suo germano su tiktok secondo me germano se ci stai guardando che posti su tiktok c'è va bene raccontare perché dobbiamo saperla sta cosa guarda io c'ho un format che te lo posso svelare in anteprima se vuoi e praticamente non lo so quando lo lancerò e se lo lancerò però è tipo la posta di sonia i cartoni animati no la posta di sonia non te lo qualcuno forse all'ascolto si si ricorda la posta di sonia i cartoni animati della sera dopo un po che andarono in onda sti cartoni arrivavano arrivava la posta di sonia c'era questa come così no che leggeva i disegnini ci scrive antonio da ci chiede ci fa questa domanda ci dice grazie sonia sei bravissima e ci chiede la sigla di allora stavo pensando di fare un format qui che ci scrivono le letterine per le consulenze no la posta del cuore la posta del cuore la posta di nz come posso migliorare il mio sito tipo cose di questo genere sì però domande appunto domande tipo come posso migliorare il mio sito cose no domande un po scomode tipo non mi ricordo forse c'è una demo te la mando in privato più tardi però ecco quello sarebbe carino perché mi divertirei potrei tra le righe dire anche qualche concetto carino e niente perché poi alla fine mi devo divertire se non mi diverto è finita perché faccio progetti perché mi diverto mi entusiasmo se no sarebbe bello sai mi ci hai fatto pensare in questo momento un format ridicolo un format che mette proprio alla berlina e con questo cerca di fare consapevolezza è quello le domande troppo banali e le domande un format che potremmo chiamare dipende no che potresti chiamare di penso lo vuoi fare o chiunque sia l'ascolto voglia fare una roba del genere perché secondo me sarebbe ci vorrebbe sarebbe necessario e nel gruppo dei fatti di siano saremmo lieti di ospitarlo un format del genere dove appunto come tipo posta del posta del cuore di di enserio una persona e fanno domande tipo ma quanti articoli devo pubblicare al mese l'intento era quello francese l'intento era proprio quello cioè fare un format carino dove io posso dire parolacce anche fare insultare tra virgolette senza essere eccessivi nei limiti ma io te lo condivido sul gruppo assolutamente io ti do proprio l'accesso prioritario guarda io qui ho allestito già il tutto tutto pronto per microfono tutto pronto per fare perché ho già fatto la demo dopo te la mando sì dopo te la mando però il pensiero ci va però farlo costantemente capito le cose vanno fatte vanno fatte con costanza costantemente tu prima parlare abbiamo titolato questa diretta per fortuna è una chiacchiera ma l'abbiamo titolata strategie di visibilità ma ora te le chiedo ora te le chiedo l'ultimo quarto d'ora te le chiedo perché era arrivato il punto però sì alla fine abbiamo parlato di di tutt'altro ma con te sempre così doveva finire mi piace io so devo dire da come ci seguono anche un po agli altri ha fatto piacere questa cosa perché ci seguono io non vedo niente non vedo quanto vedo solo i commenti ci abbiamo un po di persone collegate allora le saluto grazie per la pazienza e il coraggio non siamo solo noi volevo volevo chiederti appunto ma non perché l'hai sollevato tu il tema in realtà mi ero preso mi ero preso proprio gli ultimi 15 minuti per chiederti di lanciarci qualche consiglio sparso proprio a pioggia immaginati adesso uno che finora ha lavorato come dipendente e che ha deciso di fare il salto quindi ti trovi aspetta aspetta partendo da un post di francesco mi sono inventato il mio format video non so se riuscirà però mi diverto fateli fateli ragazzi formattate qui tanto non c'è non c'è una cosa ha mai fortuna mia forse la mia fortuna e sfortuna parlando di strategie perché poi mi ha anche penalizzato in questo questo modo di fare questo linguaggio anche un po diretto un po romanesco mi ha comunque penalizzato a livello di però non me ne frega niente no 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 ma allora non possono rubarti quello che sei quindi se un altro io alla fine io ecco anche se non sono in quella in quelle famose liste dei migliori alla fine io i clienti sono felici le dashboard danno soddisfazione non fa niente me la creo io la lista del mio migliore tra virgolette ed è il consiglio migliore che posso dare al freelance nel senso è scremare la fuffa dalla sostanza questo è importante è vero che no spiegati meglio cosa vuol dire scremare la fuffa dalla sostanza allora per esempio all'inizio facevo l'errore di promuovermi solo verso le persone come me cioè a quelli che erano i seo a chi stavo comunicando a messi ai competitor quindi la prima cosa che bisogna fare bramosi di visibilità è tirare un sospiro e dire quello che io ho da dire verso chi è più chi è il pubblico più ricettivo perché io tante volte parlavo e dicevo cose di settore ma notavo che i colleghi non è che non mi capivano dicevano ma non è interessante sta roba perché parlavo più di imprenditoria e di strategia che di della materia ma quella roba era interessante per gli imprenditori un primo consiglio di visibilità per il freelance appunto è capire a chi la vuoi vendere a chi a chi a chi ti deve rivolgere a chi perché è vero che ho avuto ho avuto inizialmente tanta risonanza tra gli addetti ai lavori però che mi ha fatto creare un sacco di persone comunque persone che oggi posso chiamare amici ok io ho conosciuto tante lo posso dire tante persone con cui mi sento quotidianamente o regolarmente che io prima non conoscevo che sono da altre parti d'italia e questo lo devo al fatto che mi sono esposto quindi ho avuto indietro delle persone su cui contare delle persone empatiche anche disponibili fondamentale poi se sei un minimo socievole ti accorgi che gli altri poi si aprono anche questo ci sono dei big malioni proprio tra i colleghi che per quanto mi riguarda capito e quindi quindi io questo lo però dal punto di vista ecco se sei stato dipendente non vorrai sprecare il tuo tempo e devi guadagnare purtroppo perché per mangiare bisogna anche guadagnare il consiglio che do è di scremare il tipo di visibilità a cui vuoi ambire perché poi c'è una visibilità fine a se stessa è una visibilità che ti porta a monetizzare ok quindi se vuoi andare diretto a meta e allora dà lo sto consiglio perché ci serve a noi è proprio questo nel senso ovviamente c'è un momento in cui tu hai fame di visibilità che ti va bene anche la visibilità fine a se stessa perché comunque a noi persone ci gratifica essere sulle liste avere l'intervista avere il contributo è gratificante anche se non non è che porta chissà effettivamente quale strato fa substrato però anche emotivamente ti senti gratificato che qualcuno che parla la tua stessa lingua ti ha preso in considerazione però per rispetto di noi stessi è importante scendere effettivamente cos'è che mi porta a guadagnare quello che mi porta a guadagnare è la diversificazione sul settore nel senso sì faccio seo sì faccio local quindi non mi sto diversificando nel momento in cui però io scelgo di prendere una clientela di micro imprenditori allora io lì mi sto verticalizzando pur facendo un mestiere che fanno molti altri perché io scelgo di prendere per esempio solo small business solo servizi questo mi ha portato a poter comunicare nel mio modo nella mia attitudine che è questa verso le persone che sono più ricettive ad ascoltarmi perché come fai a raggiungere soltanto gli small business solo servizi cioè perché potrebbe contattarti anche uno che non ha uno small business oppure fa una roba che come fai a raggiungere a comunicare a quelli allora per comunicare a quelli io ho inizialmente fatto così mi sono arrivati i primi lavori ai quali io ho detto sì quando ho preso questi lavori e ho realizzato per loro il progetto ha iniziato ad avere risultati questi risultati che ho fatto io li ho divulgati ho divulgato il come li ho ottenuti e questo mi ha dato le consigliati no mai sponsorizzato no 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 ne parla ne parlavo su youtube ne parlavo anche sul gruppo dei fatti di seo su linkedin sono andato anche agli eventi ho fatto networking emmanuele mi ha portato con lui alle tavole rotonde di da zero a seo dove facevo le analisi insomma è uscita un po fuori la sostanza di quello che era il mio lavoro nei piccoli però perché se no si è sempre orientati al clientone nazionale al grande brand stai dicendo cose importanti stai è un bel nocciolo da cui partire c'è l'idea di pubblicare casi studio in cui casi studio specifici per il tipo di cliente che vuoi prendere quindi di quel tipo di azienda liquido fai oggi lo fai domani e ma lorenzo pubblica soltanto questi quadro lo vuol dire che segue soltanto questi qua e ti crea una verticalità su quel questo è interessante quindi lo possiamo lasciare come come suggerimento agli altri casi soltanto legati questo perché io so che enzo ha sempre avuto la volontà netta di di connotarsi no vero tu hai sempre cercato la costruzione come chiunque faccia branding sostanzialmente personal branding in questo caso come si coltiva il personal branding per te al di là di al di là di questo già ottimo suggerimento che ci hai lasciato beh francesco lasciami dire che secondo me non è che sono proprio la persona più adatta a essere l'esempio di coltivazione del personal branding anzi ritengo che che ripeto l'atteggiamento che io ho avuto mi ha anche un po' penalizzato ecco siamo abituati ecco a vedere determinati toni per esempio io prendo sempre linkedin come social di riferimento io sono stato molto attivo su linkedin fino a un po' di mesi fa poi per forza di cose mi sono messo a lavorare a testa bassa e quindi ha diminuito il mio impegno ma quando io divulgavo minchiate perché io sono minchiate e roba seria quando divulgavo minchiate avevo un certo engagement quando pubblicavo roba seria non mi si cagava nessuno è chiaro io ho smesso di avere costanza nel personal branding e ti devo dire la verità non ho mai fatto un personal branding veramente ragionato ho lanciato due post podcast di poche puntate ho lanciato un video corso diciamo che come si fa se proprio devo devo dirti io ho isolato le casistiche e i concetti che mi hanno permesso di far funzionare i progetti che ho realizzato e magari ci mettevo una frase una grafica carina e un ragionamento quando ho voluto farlo l'ho fatto e questo mi ha mi ha aiutato se vogliamo però non ce la faccio a credere per come sono fatto in un content curation come quella che per esempio fa fabio fai tu o fa giorgio tave non ce la faccio quindi non so se sono la persona adatta per dare consigli di personal branding io focalizzerei quelli che sono le cose che per te hanno funzionato racchiuse in concetti che la gente può comprendere e sparargliele fuori al target però che vuoi conquistare ma guarda dalle tue parole escono comunque fuori dei consigli cioè tu stai portando un punto di vista che per me interessante cioè tu sei molto focalizzato sul concreto mentre invece altri hanno uno sguardo più largo che magari sarà utile soltanto in parte tu hai detto io voglio provare a fare una roba più full contact no più sì sì no più diretta al raggiungimento di uno scopo più cotto e mangiato che però attenzione è anche più efficace anche più efficace se poi hai anche dei tratti perché poi volente o nolente tu hai dei connotati che nel mondo digital ti contribuiscono a creare una rappresentazione tra i tuoi colleghi tutti quanti sanno che tu sei enzo e sei fatto così e sei quel tipo di professionista la cui serietà non si mette in discussione semmai ecco una bella cosa lo direbbe anche robin good la gentile devi far ridere robin e si robina sempre detta sta cosa c'è il modo migliore per insegnare qualcosa a qualcuno e attraverso una buona risata ecco forse sai cosa ci vorrebbe una cosa creare la giusta commistione tra contenuto di intrattenimento ma ci avrai anche pensato questo no contenuto di che entra a modo tuo quindi sfruttare questi punti di forza che hai con la ciccia la sostanza la verticalità che hai scelto di dare la tua comunicazione no sì sì no sono d'accordo ti ringrazio ci ho provato un po con il video lpa indexing è un po una sintesi del mio modo di divulgare esattamente quel video quel video spacca grazie ma c'è tutto in quel video perché è un video umoristico che però risolve anche un problema non c'è contenuto migliore il problema è riuscire a anche a trovarli poi questi quella è proprio una tripletta però perché c'è il personaggio l'intrattenimento e la necessità di scoprire quell'argomento perché in quel momento c'è gente veramente che non andava in indice mentre per esempio io ho fatto anche un video sulla scheda prodotto con controcazzi che secondo me quel video è un video era divertente però è più lungo però non è che ti posso spiegare poi ti faccio vedere come si fa una scheda da zero anche nel back end analisi back end cioè oltre meno di 40 minuti io non lo so come si fa e poi quando vedo che dico una stronzata con un hashtag e mi fanno 200 reaction oppure si ricondivide la notizia che ne so nuovo update di google vediamo le impressioni e tu vedi che quella c'è una risonanza di 2.000 reazioni come ti ho fatto vedere come si fa una scheda prodotto senti facciamo le letterine della posta di Enzetto che è meglio a sto punto mi diverte le devi fare assolutamente no ma la posta di Enzetto la posta del cuore di Enzetto come mi hanno sempre chiamato in comitiva a me capito poi alla fine io non sono Enzo Mastronardo io sono Enzetto quando qualcuno mi dice signor Vincenzo Mastronardo quello è mi nonno Vincenzo signor Mastronardo quello è mi padre capito Enzetto no è andata no però allora io io so che tu sei anche un professionista molto impegnato testa bassa vuol dire vuol dire tanto a proposito di molto impegnato ma io cioè tu hai anche progetti di affiliazione no tu segui tu hai progetti allora io cominciavo da poco sono in ritardissimo su questa cosa perché avevo bisogno giustamente perché poi dici perché sei concreto io vengo da vent'anni di lavoro dipendente dovevo essere concreto per rispetto di me stesso e della mia famiglia cioè già ho fatto un cambio di lavoro poi mi metto pure a traccagnà come si dice a Roma no però una domanda al volo un voglio proprio un virgolettato hai già provato nel tuo network nei progetti che curi in affiliazione e il contenuto con chat gpt sì assolutamente come come performano ancora allora sto restaurando io lavoro con l'intelligenza artificiale già da un anno abbondante e stanno andando bene abbastanza bene qualche qualche calo di ranking l'ho avuto ma perché secondo me nell'ecosistema dove sto lavorando mancano un po tutti i segnali che hanno gli altri concorrenti ovvero io sono molto curato dal dal punto di vista della seo home page e della della risposta ma mi mancano i link è vero che la link building funziona sempre meno ma se arrivi in serp competitive dove tutti gli altri ce li hanno e tu no purtroppo quindi io ho la differenza sul sito io arrivo senza fare link però a un certo punto mi devo arrendere quindi sto subendo anche lo scotto di non averli fatti e mi sto organizzando che significa tutto questa risposta però progetti recenti però recenti sì 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 tutto recente con il tempo io sono partito tardi però però quelli che magari erano fatti su domini recuperati o che comunque c'è stata fatta un'attività un pochino più sostanziosa quelli reggono con intelligenza artificiale sì poi non è che io ho fatto copia e incolla dall'editor se io allora vedi comunque andando avanti anche se non li compri una rete un po da sottobosco un po di condivisioni anche spontanee se a patto che i contenuti non siano delle robe da pirati quindi lo dico perché io seguo un blog sul beauty che non è vanity fair quindi non ha un brand affermato come quello non ha mai comprato un link e viaggia fra i due tre milioni di visite al mese quindi è veramente tanta roba per un beauty blog che ripeto non è grazia non è vanity fair eccetera senza poi ho visto proprio questa differenza francese mi metto a scrivere di qualcosa che io so di mio pugno con trasporto è un'altra cosa se mi metto a farlo per guadagnare diverso io ho il dovere di usare le mie con il dovere rispetto di me stesso usare le mie competenze per monetizzare quello che posso fare farlo in modo etico non farlo fottendo la gente perché se io volessi guadagnare tanto lo potrei fare ma non lo faccio e non è un vanto è un dato di fatto abbiamo la dovere la responsabilità di poter guardare in faccia i nostri figli e quindi nel digital ci sono mille modi di guadagnare se lo facciamo in maniera sporca io preferisco guardarmi in faccia e non sputare detto questo chiaramente io uso le mie competenze in un altro modo per monetizzare quindi anche contenuti di cui io non so quasi nulla dove mi devo informare dove mi serve l'aiuto e dei segnali quindi sì in quel caso chat gpt è un aiuto è un aiuto è un aiuto certo però ecco chat gpt è un aiuto ma poi ci deve essere un contenitore valido una ux ux fatta come dio comanda i segnali esterni che sono sempre meno link e sempre più segnali esterni che ti devi ricavare che mi sto accorgendo che bisognerà bisogna starci sotto segnali esterni oggi significa che bisogna seguirli i progetti bisogna starci sopra bisogna avere una frequenza di pubblicazione bisogna dire cose sensate questi sono confermo 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 x10 e ti dico di più i progetti che ho seguito con tanta attenzione nei primi mesi di vita di questi progetti sono andati molto bene quelli che io ho fatto scalabilmente in maniera un po più sciolta si vede che non stanno performando come vorrei come vorrei alla fine basta questo basta questo cioè anche se pensi ai ai blog seo i blog seo quelli quelli storici tendono sempre un po quando li lasci stare tendono sempre un po scendere mentre invece quelli più moderni magari fatti anche ma questo vale ho detto i blog seo in realtà vale veramente per tutto cioè quelli che stanno più in alto sono quelli più attuali quelli che stanno più attuali sono quelli che segui di più quindi è inutile che adesso stiamo lì a raccontarci sto fatto che bisogna avere i santi in paradiso bisogna starci sotto come quando cucini no è vero è vero no no ma cucini se ci stai sotto viene bene ma è anche col guarda quando tu parlavi delle menzioni che bisogna avere lo sforzo di fare andare in giro e fare relazioni ma è la stessa cosa quando tu scegli una compagna di vita la trovi un tanto al chilo al mercato oppure te la devi coltivare c'è c'è un percorso devi superare degli ostacoli finché poi diventa magari la donna della tua vita è una stupidaggine però quando io dico ecco sì come per tutte il bambino ci vogliono nove mesi per farlo non ci vuole un mese due mesi perché tutto quello che ha un valore esige uno sforzo da parte nostra ma questa cosa andiamola a spiegare a quanti nel gruppo arrivano alla ricerca di una scorciatoia oppure facendo domande che le leggi e ti accorgi subito queste sono persone che stanno cercando l'automatismo oppure una risposta facile senza neanche vogliono tutto no non gli puoi andare a dire vatti a cercare vatti a studiare questa cosa vatti a cercare no vogliono una soluzione queste stesse persone sono quelle che alla fine si lamentano del fatto che google funziona male e quindi vedi che diventa un cane che si morde la coda per me tu le sai queste cose non le devo dire a te enzo no 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 ma è vero ma poi ci casco spesso anche io ci ricasco perché poi noi andiamo anche un po' a periodi eh quindi ci ricasco io stesso poi certe volte quando ci sono dei cali che mi preoccupano il più delle volte non mi posso neanche incazzare perché lo so che dipende ma chi di noi non si è fregato le mani quando è uscito certo gpt ma cioè parliamone chi di noi non ha pensato ha detto quasi quasi è chiaro quante volte nel prompt gli ha detto posso usare il contenuto lui no posso usare il contenuto no senti posso usare il contenuto sì lo puoi usare ah ok vedi che allora no ragazzi stiamo messi malissimo allora ascoltami enzo eh qui andiamo avanti ancora per per tutta la serata quindi io perché perché tu sei talmente amabile gradevole come dire sei un biodorante per ambienti cioè talmente è talmente facile parlare con te che si rischia veramente di andare avanti a lungo però io mi sono dato come come limite l'ora quindi eh adesso ci fermiamo poi magari se ti fa piacere a me farebbe tantissimo piacere ce ne facciamo un'altra in un altro momento quando vuoi fra quando vuoi perché è bello anche gli altri è piaciuta molto io tanti commenti non neanche pubblicati perché erano perché poi sono arrivati un po a raffica scrivevano varie cose varie ed eventuali eh intanto allora eh cerimonia di chiusura permettetemi di ringraziare Enzo Mastoronardo per gli amici Enzetto che eh la zeta alla romana è morbida Enzetto non è Enzetto Enzetto è più a Napoli Enzotta è una mazzata mentre a Roma è Enzo eh spero che voglia tornare se non gli sono sembrato troppo inopportuno nelle mie eh elucubrazioni eh a a essere ancora ospite in questo podcast intanto ringraziamo anche tutti voi che avete avuto la ehm la la gentilezza di seguirci facciamo tutta una tavolata con a tavola con la roba da mangiare giustamente sì 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 tutti quanti eh ringrazio i fatti ringrazio Enzo ciao Enzo a prestissimo grazie a voi e quando vuoi sempre qui ancora grazie buona serata e ciao 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 ciao